E' stato revocato lo stoccaggio temporaneo di Futa a Polla nel sito dell'Exergon, ad annunciarlo in queste ore il presidente della provincia Michele Estrianese. Sono venute meno di chiara le condizioni emergenziali. L'impianto di Acerra ha ripreso la lavorazione a pieno regime. Rimane solo l'amarezza di una incredibile campagna mediatica di questi ultimi mesi che ha agitato sapientemente gli animi con lo spettro di gravissime emergenze rifiuti, problematiche ambientali che invece non ci sono mai state. Non c'è stata alcuna emergenza grazie alla sinergia che ha visto lavorare insieme in maniera responsabile e competente istituzioni, parti sociali e lavoratori. Tutta questa esperienza deve farci riflettere sulla leggerezza e l'irresponsabilità di chi ha cercato di strumentalizzare i fatti accampando serili polemiche e azioni di vero e proprio terrorismo psicologico nei confronti della popolazione. Pronta arriva la risposta da parte del presidente della comunità montana Raffaele Accetta che insieme con il sindaco di Polla Rocco Giuliano si è sempre opposto alla decisione della provincia di far arrivare dei fiuti nel ballo di Diano. Caro presidente, mi compiaccio, dichiara Accetta, per la soluzione trovata, ma mi corre l'obbligo di precisare che la mia reazione, quella di altri amministratori locali, è stata anche provocata da una sua pessima comunicazione, non proprio console e rispettosa del rapporto istituzionale tra sindaci. È stato lei, insieme ai suoi colleghi, a parlarci di un piano B che si sarebbe attivato solo in caso di mancato affidamento o se la gara per il trasporto fosse andata deserta. Non crediamo di aver offeso nessuno né di aver alimentato una campagna mediatica nei suoi confronti e di coloro che hanno avuto il compito di operare delle scelte. Siamo sereni in quanto convinti di aver fatto il nostro dovere e nell'interesse del territorio che negli ultimi anni è stato spesso mortificato, aggredito, offeso e depretato, altro che serie li polemiche e terrorismo psicologico.